come stanno vai salto vai salto va beh c'è, si butta ha preso coraggio oramai bella salita si butta si butta si butta Grazie a tutti Oia! qua è la parte brutta adesso qua è la polizia Qua la devi alzare, bravo, io non riesco qua ad alzarla e mi devo frenare. Devo imparare pure io a fare l'alzare di dietro. E' brutta qua, ma molto brutta, occhio Ale, occhio, 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 attento, però abbiamo fatto quasi tutto, tutto in sella. Ale si è agganciato alla pianta, ripartire da qui adesso non è facile. Vado. Minchia. Però tutta la parte brutta l'abbiamo fatta, o no? Prima scendavamo dappertutto. Ah, il ginocchio mi sta facendo male. Oh, il ginocchio mi sta facendo male. Il ginocchio mi sta facendo male. questa murchina da qua e risaliamo no no giù 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 no però sei stato bravo oggi cazzo tutte in sella le hai fatte forse non mi sono voluto scogliere dalla bici anche quando mi sto fermando no non sono venuto a curvare ma lì dove tu l'hai fatta alzare di dietro sono dovuto scendere la prima curva a gomito e lì se non la fai alzare come fai tu è difficile da fare e penso di sì ero dietro di te che bella telecomera che stai faccio io no ma io dico quella tuba che mi sono bloccato sì ma vabbè ce l'ho qua ho cercato di abbassarmi dovevo girare basso dovevo girare ho avuto paura di girare lo stesso e sono andato contro l'albero